Domenica 22 aprile, un nuovo appuntamento e anche in questo caso si tratta di un evento di assoluto richiamo per San Giovanni, ma anche e soprattutto per l'intero comprensorio. Tredicesima edizione del Festival di Musica Classica Città di San Giovanni Valdarno, con noi il direttore artistico e il maestro Andrea Turini. Andiamo avanti con tanta felicità, con tanto entusiasmo, con tanto spirito rinfrancato, anche perché la musica ha questo grosso pregio di darci tanta felicità, tanto bello e quindi di farci bene all'anima e anche alla testa, soprattutto a noi che la facciamo, gli ascoltatori però i vantaggi dell'anima interiori sono enormi. Dopo il concerto straordinario di Momo Kodama abbiamo un altro bellissimo concerto particolare perché abbiamo un quartetto formato da soprano che è Anna Aurigi, clarinetto Stefania Bellotti, abbiamo il contrabbasso di Pier Mario Murelli e al pianoforte Maria Grazia Petrali, che faranno un programma molto vario con musiche di Schubert, Bottesini, Mozart, Rossini, del quale appunto abbiamo il 150esimo della morte. Sono artisti straordinari, Maria Grazia Petrali è presente da noi con grande costanza, insomma, anche perché suona a quattro mani con me, una collaboratrice mia, docente al Conservatorio di Piacenza e gli altri tre artisti sono tutti e tre docenti al Conservatorio di Milano, sono tre figure musicali molto importanti e fra l'altro non è una formazione casuale appunto, come si può ben capire, ma suonano insieme da tanti anni, magari in formazioni misti o due o tre, ma insomma collaborano fra di loro da tanti anni e sono certo che ci faranno un concerto straordinario. Quindi aspetto tutti quanti domenica 22 aprile alle 17 ad ascoltare questo bellissimo concerto.